buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video un video molto particolare che volevo fare già da tempo ma tipo Giampieter che già me l'ha rubato rubato vabbè e io infatti in questo video vi vorrei parlare vorrei fare più informazioni sui bitcoin cosa sono e le criptovalute in generale e del video di Giampieter che secondo me ha fatto una cosa perfetta allora quello che volevo dire i bitcoin sono appunto una criptovaluta che sono quasi dei file sono dei file e si possono salvare anche su chiavetta ma nel caso di cripto tab sono salvati nel cloud e cosa sono in realtà allora Satoshi che non è una persona reale sembra quasi nickname ha creato appunto questa valuta ecco Satoshi Nakamon vabbè e cosa sarebbe allora tutti coloro che comprano o inviano bitcoin servono delle transazioni che vanno tracciate che vanno contabilizzate non essendo appunto come tutte le monete del mondo però questo compito aspetta ai server delle banche e alle banche inoltre nei soldi normali come l'euro e il dollaro i soldi vengono prodotti dalla zecca di stato invece i bitcoin devono avere sempre questi requisiti però li funzionano diversamente visto che i bitcoin sono una moneta che in realtà sarebbe un piccolo file di pochi kilobyte ma per essere fatti servono molti calcoli quindi la vera e propria zecca di stato non c'è siamo noi non è proprio così però spiego meglio poi parole per contabilizzare e per tracciare tutti i bitcoin servono dei calcoli e dei server visto che Satoshi non aveva la possibilità economica di creare questo server enorme che addirittura google avrebbe delle difficoltà a crearne uno simile cosa pensate di fare? che ogni computer che scarica questo software che è di pubblico domino cioè io vorrei prendere e scaricare il software per fare i bitcoin io in realtà non creo proprio bitcoin aiuto faccio da server a Satoshi per contabilizzare tutti i bitcoin tutta la gente che invia e compra e vende bitcoin e vengo ricompensato appunto con dei bitcoin che al momento un bitcoin equivale a circa 40.000 euro jumpy tech nel suo video usa crypto tab che è un browser chrome quasi è praticamente identico non c'è solo il logino di google è sicuro però non lo userei come browser principale perché è meglio chrome e lui ha messo le mani avanti su tutto cioè infatti è una moneta stabile guardate come cambia il suo valore cioè un giorno vi potrete trovare con un bitcoin essere poveri aver perso il vostro investimento oppure essere ricchi infatti vendere e comprare bitcoin sarebbe la cosa migliore può portare a dei guadagni enormi ma dovete avere delle conoscenze invece farmarli non serve nessuna competenza serve scaricare un software e lasciare là il computer solo che in Italia il costo energetico proprio dell'elettricità è molto alto rispetto a molti altri paesi e inoltre veniamo ricompensati molto meno dall'algoritmo che crea la criptovaluta infatti in Italia farmare bitcoin almeno che non lo facciate già da tempo non abbiate un computer da buttare e lo fate non conviene almeno in Italia ma secondo me in tutti i paesi però è un parere personale infatti Giampida che mette le mani avanti su tutto e ha condiviso la sua esperienza personale si ha guadagnato 400 e passa euro ma dai referral link che c'è anche su Brave vi ricordo il video di ieri io posso creare un referral link che vi posso lasciare qui sotto e farmiamo insieme però quello che si è fermata la maggior parte lo prendo io e quindi io ci guadagnato boh ha avuto 400 euro in un mese però lui ha avuto, se contare lui ha detto che ha avuto 4.000 utenti che hanno joinato e eccolo ero i pallarini che hanno joinato e hanno fatto tutti insieme 400 euro in un mese quindi sì se fate i calcoli è davvero poco non è niente infatti per me è quasi una truffa però lui ha messo le mani avanti è un esperimento che ho fatto anche io non con il Bitfodium ma con l'Ethereum e e comunque ci sa fare un esperimento se non lo provate però fidatevi anche dei se qualcuno lo ha già fatto e lui già già uno di cui ci possiamo sfidare sempre a tutto è uno dei migliori youtuber in Italia che ha una sua reputazione infatti invece di farlo noi perdere tempo spergare un mese stare dietro a un computer l'ha già fatto lui ci facciamo i nostri calcoli e si lucia anche i telefoni più potenti e ci facciamo i nostri calcoli e vediamo se conviene secondo noi o no per me no non ve lo consiglierei mai però come esperimento fatelo nessuno vi dice niente e ripeto lui ha messo le mani avanti più volte ha detto che non conviene cioè dovete fare i vostri i vostri conti in tasca diciamo ehm vabbè ritornando sull'argomento di di bitcoin vi volevo dire inoltre una cosa che l'algoritmo l'app che crea bitcoin ehm ha un algoritmo appunto che non permette di generare più di 21 milioni di valute cosa significa questo? che prima o poi il software finisce di funzionare i bitcoin non so se perderanno valore o aumenteranno alle stelle sinceramente non ho approfondito ciò però si pensa che entro il 2040 ehm il software finirà di funzionare quindi o faranno un aggiornamento ehm anzi oppure ottimizzeranno anche come farmare i bitcoin perchè veramente estraia un sacco di ram ehm ma al momento c'è sembra un una bolla non mi ricordo il termine tecnico preciso però quello è successo nella crisi del 2008 in poche parole quindi cioè è una moneta destinata a finire mentre per l'etherium è diverso cioè vale molto di più l'etherium però è difficile portarlo all'euro quindi fate i vostri conti in tasca questo qua era un video informativo vi volevo appunto spiegare come funzionavano i bitcoin non vi posso portare la mia esperienza perchè l'ho già fatta e non intendo di farla ehm vabbè dunque se cercate su internet ah no ecco ecco la internet ecco ah no è il mio ecco questo qua è il software voi lo scaricate e lo fate vi dovete creare un portafoglio che appunto è un software per appunto fare da server a bitcoin ed è fatta quanto sto di video? mazza 9 minuti quanto so professionale vabbè eh leggete la descrizione metto il cuore a chi scrive la frasetta ah vi piace la nuova intro? scrivetelo nei commenti pi